Questo gesto non è formale, cioè la professione di fede e il giuramento di fedeltà diventa all'interno della parola di Dio, dei sacramenti e del riferimento all'autorità una delle espressioni privilegiate dell'appartenenza al presbiterio diocesano come luogo di quella fraternità, di quella comunione senza la quale la fioritura della persona non è alla lunga possibile. Comunione posbiterale che deve essere sempre di più l'oggetto della nostra tensione interiore, ciò a cui la nostra mente, i nostri affetti, la nostra energia deve tendere costantemente. Non c'è più spazio, al di là delle illusioni che noi spesso pratichiamo per fare prete in solitaria. Perché questo incomincia a non essere più compreso dai nostri fedeli, che ci confondono con operatori sociali, con intellettuali più o meno organici, a seconda dei nostri temperamenti, con ascoltatori psicologici, ma non vedono più lì il capillarizzarsi della chiesa. E da questa perdita di senso del prete, del popolo, a colui che crede di poter esercitare il ministero di solitaria, viene lentamente una perdita di autocoscienza e uno smarrimento che consente di continuare solo a condizione di molti compromessi, con se stesso, con i confratelli e con tutto il popolo che ci è affidato. Abbiamo in questi anni, radicandoci bene nel Magistero, almeno dal Beato Schuster in avanti, abbiamo realizzato nella nostra chiesa dei cambiamenti strutturali, che sono necessari ma non alla lunga decisivi, però estremamente significativi, che hanno comportato molti costi e molti sacrifici da parte vostra. Perché ogni cambiamento è fatica se non è vissuto nell'ottica appunto della conversione a cui l'unità del presbiterio e l'unità del popolo di Dio ci richiama. Mi pare che però ora ci troviamo di fronte ad un passo che non è sentito solo dalla nostra chiesa come un passo importante e decisivo, ma da tutta la chiesa universale. Cominceremo a parlare un po' in termini organici domani in sede di Consiglio Episcopale e potremmo con una parola forse un po' grossa, ma significativa, chiamare questo passo il passo della riforma del creio. Siamo giunti in un tempo che ha delle forti analogie con altri momenti della storia della chiesa in cui la modalità di concepire il sacerdozio ministeriale e soprattutto il suo esercizio e le modalità di vita del sacerdote, dicevo siamo giunti in un tempo in cui tutto questo si è fatto molto acuto senza tradire nessun segreto, posso dire che ai primi di ottobre la plenaria dei cardinali della delegazione del clero prenderà in esame un testo, un documento che abbiamo imparato in dieci anni su questo tema. Ovviamente non si può pensare ad una riforma del clero generalizzata nelle forme della chiesa universale, bisognerà affrontarla dal punto di vista di talumeline comuni e dal punto di vista della nostra chiesa locale, ma questa appare come necessaria. Certamente i cosiddetti cantieri e soprattutto la chiusura sostanzialmente pacifica degli stessi, almeno dal punto di vista della percezione prima, ha già comportato una riflessione sulla riforma del presbiterio e del prete, ma abbiamo necessità tutti quanti, tutti insieme, di approfondirla. Allora, in questo contesto il gesto che stiamo compiendo è come se volesse un palo solido, vengono in mente i pali su cui funziona la viabilità e su cui stanno in piedi le case di erenzia, un palo solido da affondare dentro la palude mobile della società post-secolare contemporanea, ed è molto significativa che queste bricole, così si chiama, in Venezia, marciscono nella parte in cui stanno fuori dall'acqua. La parte che va nell'acqua si pietrifica e dura per secoli, per questo che Venezia sta su. Noi dobbiamo mettere qualche cosa di duro, di quel cedere lì, di quel tipo lì, nella nostra vita e nella nostra Chiesa. Allora, la professione della fede, in tutti i suoi articoli, in Rebus Fidei e in Re Morbo. E il giuramento di fedeltà sono certamente due bricole, due di questi pali solidi a cui non possiamo non fare un momento nell'unità del presbiterio, nella comunione con il vescovo, nella comunione tra i successori degli apostoli con Pietro e sotto Pietro. Mi pare che le letture che abbiamo letto ci dicono delle condizioni in merito. Mi limito a citare tre parole. La prima parola che voglio dire è presa dall'Epistola di Paolo ai Corinzi. Siamo amministratori dei misteri di Dio. Tommaso diceva Unus sacerdos ester Christus. Ali autem ministri eius. C'è un solo sacerdote, che è Cristo Gesù. Tutti gli altri sono i suoi ministri. Quindi la nostra tentazione quotidiana, per me anzitutto, inesorabilmente legata al moto egocentrico della nostra libertà, che ci fa partire sempre da noi, come se noi fossimo la sorgente del ministero, dimentica questo dato. Cioè che noi siamo amministratori mandati da un sacerdote e dobbiamo per questa ragione lasciar brillare sul nostro volto e far emergere nella nostra azione la presenza del volto santo di Cristo, la presenza di questo sacerdote. non chiamo a me, non chiamiamo a noi stessi, chiamiamo a Cristo, verso l'accidente liberi, di fronte ai nostri limiti, di fronte anche ai nostri peccati se li conosciamo. Perché non portiamo noi stessi, portiamo un altro. come si spiega che molte volte, almeno il 35-40% delle volte, quando si cambia un parroco, dobbiamo ancora assistere a documenti iperfirmati di gente che si lamenta che se va via quello lì crolla tutto, solo quello lì poteva fare. Adesso cosa succederà? Forse perché non siamo ancora, ripeto, non sto giudicando nessuno, come Paolo ci dice, questo vale anche per i Vespoli, vale per tutti. Vuol dire che nel quotidiano, nel giorno dopo giorno, non siamo ancora capaci di far passare la Chiesa nella sua integralità e nel suo essere segno e strumento di salvezza di Cristo presente. Altrimenti ci sarebbe una maggior scioltezza nel cambiamento. Come si spiega che per mandare, trovare un ministro in una parrocchia si deve chiedere a otto, nove persone? Dov'è l'obbedienza giurata al Vespoli? Come si spiega che quando chiami uno gli dice ti vedrei bene lì, vai lì, ah ma il mio tempo è già occupato, devo fare questo, 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 no, vero, come potrei mettere dentro quest'altro? Ma amico, ti sto dicendo di lasciare queste cose per obbedienza e di fare un'altra cosa. Ribadissimo, dico questo in tono un po' appassionato perché fa parte del mio spine, ma non ammagiato, molto pacifico. Capisco, capisco la fatica, capisco le difficoltà, però almeno in questa occasione queste cose ce le dobbiamo dire. E anche più bello, più semplice, più costruttivo per il prestiterio per noi tutti, dire quando capitano i cambiamenti senza falso, mi dà le proprie aspirazioni. È meglio dirvi, tranquillamente, serenamente, non so, mi avete sottovalutato fino adesso, io potrei benissimo fare il preostro lì, il vescovo là, ma dito è un po' semplicità, se non capita, non capita. E se lo dite malamente è a scapito vostro, perché l'episcopite o la monsignorite è una grave valutia, perché se uno lo aspetta, lo aspetta, lo aspetta, poi non arriva, si sta mal tutto a rita. È meglio che uno non se lo aspetta e deriva serenamente, tranquillamente, ma sono piccoli esempi per dire l'importanza del gesto di oggi. Quindi siamo amministratori, mandati. Questo esige il prendere sul serio la grande parola che la lettura di Ceremia ci ha detto, prima, prima, prima di formarti ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce. Qui è concentrata tutta la domanda di santità che dobbiamo avere nel cuore, santità sempre personale e comunionale, tant'è vero che questa domanda del prima è relativa ad un ideo, è relativa alla missione. Non esiste una santità fuori dalla missione. Anche l'ostilità deve documentare la dimensione missionaria della sua scelta. Però questo prima, questo prima ha un grande nemico, il nemico di questo prima, di questo Dio che viene prima, di questo Gesù che viene prima, di questo volto che dobbiamo cercare, si chiama dualismo. Io mi metto a posto, alla mattina, l'alexio, l'editazione, se la pastorale non domanda altro, la santa messa, sono regolari dalla confessione e dopo, fatto questo, passo all'azione e gli mi butto in tutte le iniziative, eccetera. Tutte e due le cose oltre modulo deboli. Il primo fattore di una riforma del clero è aiutarci a fare unità tra questi due aspetti che normalmente viviamo come tentazione, come separati. Invece bisogna che l'azione abbia come forma questo prima. Allora diventa pedagogica e relativa. Allora spalanca i giovani e gli adulti a quel gusto dell'appartenenza alla Chiesa che fa fiorire la libertà. Quindi questo prima sia radicale ed è proprio l'oggettività della stima a priori che il presbiterio domanda ed esige anche di fronte alle prove, come ci dice la prima Pietro nell'avventura di oggi, che aiuta questo passaggio che è difficile, che è molto difficile. Ma l'azione ha sempre una forma, inesorabilmente, cioè ha un'origine, ha uno svolgimento e ha uno scopo. Ebbene, o questa forma è cavata da questa precedenza assoluta di Gesù e della Chiesa, oppure mutuata dall'alto, mutuata dal mondo. Facciamo per esempio tante belle iniziative con i giovani, ma non sempre queste iniziative hanno la forma cristica, che non vuol mica avere chiusa a quelli che vengono all'oratorio. La forma cristica è la una forma umana. In Gesù Cristo si nivela pienamente l'uomo a se stesso, dice la Gauta di spesso. La forma cristica tiene dentro tutto. La forma cristica deve essere un educatore che propone, non è l'ultimo ragazzo sguandato che passa e che viene, però la imparerà se l'educatore la propone. Quindi il primo. E infine il tema bellissimo da toccare a San Giovanni, il ventidresimo, che ha lavorato molto su Giovanni X, del pastore che è padre. La sua tesi di fondo, che il capitolo decimo di Giovanni annuncia, era quello che l'identità del pastore è la paternità. La paternità è la grande compagnia che Dio, la Trinità, fa alla mia libertà, perché la paternità dice l'origine della mia libertà, dice l'accompagnamento lungo il cammino della mia vita, e dice l'accoglienza finale, dice il termine del pellegrinaggio terreno. Allora, questo noi dobbiamo attuare e realizzare con il nostro popolo, con i nostri fedeli, secondo una modalità realistica, cioè obbediente alla trama di circostanze e di rapporti che sono quasi sacramento, che è la providenza civile. Non possiamo fare i padri come il papà di famiglia, perché abbiamo migliaia di fedeli. E quindi non dobbiamo scoraggiarci perché non possiamo dare a tutti una compagnia dettagliata nel quotidiano. Non usiamo con troppa faciloneria l'espressione per costruire la comunità, bisogna perdere il tempo, il tempo non perdendo, sempre sbagliato perdere il tempo. Ma bisogna dosare il livello della condivisione, rispettivamente tanto, con semplicità di cuore, le circostanze che ci sono date. Per cui se posso fare due faccio due, se posso fare otto faccio otto, se una situazione è talmente eccezionale da esigere dieci, lascio tutto e faccio quello. Se una situazione non può neanche essere in linea di massima, se non nella preghiera, presa direttamente in considerazione da me, ma la devo in qualche modo lasciare ai miei collaboratori in serenità, in tranquillità, lo devo fare. Quindi una paternità sostanziale, ecco il pastore, sostanziale. E quindi la centralità dell'Eucaristia domenicale, della domenica, la liturgia come espressione di questa nuova parentela in Cristo, di questa famiglia santa. E quindi il peso del pastore dentro questa liturgia come colui che ha questo potere sconvolgente di prendere in mano l'ostia santa, il calice, cioè i sacramenti della transustanziazione dell'evento della morte, della passione della morte, della risurrezione di Gesù, delle apparizioni di Gesù, della salita al cielo di Gesù. Far passare nel gesto, non con le parole e con la moltiplicazione artificiosa dei segni, far passare questo dono straordinario, questo genio cattolico che è l'Eucaristia. Per cui Gesù l'anticipò il Giovedì Santo per i suoi, perché noi potessimo posticiparla lungo la storia. Che dalla Messa emerga nell'evento del rito che costringe a uscire di casa, che interrompe la sequenza meccanica della nostra vita per immettere la potenza di Cristo Salvatore, che il rito manifesta in questo, con la paternità. Si vede nel sacramento concettivo illuminato la domenica dalla parola di Dio, anche dall'omelia che noi aggiungiamo, che credo prepariamo con grande serietà, senza farci i propri patevi danni, non tra tutti quelli che credono le omenie. E' un po' una moda, insomma, facciamo con coscienza e poi facciamo, insomma, senza dire termati, perché non ha molto senso. C'è l'accompagnamento quotidiano che gli è d'acqua. Scusate se vi ho richiamato queste cose così, esimpronto un po' all'improvviso, ma reputo questo segno, un dono molto molto bello, che tra l'altro costruisce in questa ripresa danno in una catena molto significativa, che mi è stata disegni, che mi è stata donata dalla providenza, perché ho potuto vedere molte espressioni vitali della nostra Chiesa direttamente connessa con il ministero del Vesco. Ho visto l'ordo virgine, un giliano procesano, i figli dei doni, i diacoli dei doni, i pregi del quinto anno, gli ammettenti, ormai gli ammessi ieri, abbiamo fatto un'assemblea dei decani di lavoro molto serio, intenso per due giorni. Ieri abbiamo cominciato l'anno pastorale, abbiamo anche mandato un segnale alla città, riparlando in maniera interessante, nel fondo famiglia-lavoro, spero che possiate attraverso tutti gli strumenti tecnologici, prendere coscienza. Poi oggi c'è questa bella occasione di vedere un numero così elevato di sacerdoti che hanno accettato nell'obbedienza questo nuovo tratto di impegno nella loro vita. Tanti segni molto belli che ci fanno dire che la nostra Chiesa è viva e che lo Spirito la conduce. Tutti questi segni chiedono di essere condivisi anche tutti. Secondo il famoso principio, richiamato anche da Papa Francesco e che il tutto viene prima dalla parte e che nel frammento della tua comunità pastorale, della tua parrocchia, deve brillare il tutto. Se brilla il tutto, il frammento spalanca 360 gradi e parla veramente alla libertà di ognuno dei nostri battezzati, perché i sedeli sono tutti battezzati, indipendentemente dalla loro pratica religiosa e dalle loro condizioni.